Exoraptics, siamo qui oggi per presentarvi questa fantastica Hyundai Kona 1.6 Hybrid 136 tavalli in allestimento M-Line. Nella parte anteriore possiamo trovare una griglia frontale rifinita di nero opaco e dei fari anteriori full LED. Spostandoci nella parte laterale della vettura possiamo trovare anche qui dettagli anch'essi nero opaco, un cerchio in lega diamantato da 18 pollici e vetri oscurati. Nella parte posteriore della vettura troviamo un piccolo spoiler, sensori di posteggio posteriori e infine la retrocamera. Un bagagliaio molto capiente che raddoppia di capienza nel momento in cui si vanno a battere i sedili posteriori. Nella parte posteriore della vettura troviamo da ambe e due le parti alzi cristalli elettrici, agganci Isofix e questi fantastici sedili in tessuto con cucitura a contrasto rosse che donano un look molto sportivo alla vettura. Non per ultimo una presa di ricarica USB. Andandoci nella parte anteriore della vettura troviamo il lato guidatore, tutto ciò inerente alla gestione degli alza cristalli anteriori e posteriori elettrici, chiusura centralizzata e regolazione elettrica degli specchietti retrovisori. Troviamo inoltre fari automatici, tergi cristalli automatici grazie al sensore pioggia, uno schermo digitale sul quale possiamo andare a trovare tutte le informazioni necessarie della vettura. Volante a tre razze dal look molto sportivo con logo N-Line. Sulla parte sinistra troviamo tutto ciò che è inerente appunto alla gestione chiamate, mentre sulla parte di destra tutto ciò che riguarda appunto il cruise control. Nella parte centrale troviamo il nostro sistema di infotainment con uno schermo molto grande al quale è possibile collegare il proprio smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Sotto al display troviamo appunto la regolazione del nostro clima, prese per la ricarica a 12V e ingresso USB. Troviamo inoltre una leva del cambio, anch'essa con cuciture a contrasto rosse e pedaliera in alluminio. Anche all'anteriore troviamo a seguire il nostro clima con logo sempre N-Line sulla parte posteriore. Venite a scoprire questa e numerose altre vetture su ratx.com Grazie. Grazie.